Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa, rassegna stampa di mattino 6, in questo giovedì 20 dicembre, ci avviciniamo a rapidi passi al Natale, ma intanto vediamo quelle che sono le notizie principali che trovate sui quotidiani già in edicola. Come di consueto in questa prima parte spazio alle prime pagine e poi nella seconda parte entreremo all'interno dei giornali di casa nostra. Partiamo dalle prime pagine, dai nostri quotidiani, le quattro edizioni del centro, questa è quella di Pescara che apre con purtroppo una notizia di cronaca, insegnante muore durante la lezione, a Pescara dramma all'istituto di Marzio Michetti, Rita Battistoni aveva 63 anni. Leggiamo i box in alto che riguardano politica nazionale e non solo, perché poi si ripeteranno nelle prime pagine delle altre edizioni e non li leggeremo nuovamente. Accordo sulla manovra, l'Italia evita la sanzione dell'Unione Europea, i mercati allora festeggiano. L'Abruzzo verso il voto, Salvini presso il candidato e Cesa dell'Udc fa endorsement dicendo tifo per Marco Marsiglio come candidato della coalizione di centrodestra. A centropagina l'iniziativa a Pescara da gennaio via il progetto Bimbinospedale, li accompagnano i clown in taxi. Partirà da gennaio il servizio di trasporto dei bambini che devono ricoverarsi in ospedale e che dall'ospedale devono tornare a casa. Protagonisti 80 volontari dell'associazione Will Clown Pescara per il progetto Un Ospedale a Colori. Nelle cronache, box laterali, sempre a Pescara, Riviera, Palazzo Michelangelo sarà abbattuto. Il Comune ha rilasciato il permesso di costruire che porterà l'abbattimento di Palazzo Michelangelo proprio sulla Riviera Nord. A Montesilvano l'ex sindaco Renzo Gallerati in lista per la regione, in una lista civica che sosterrà Legnini, governatore. Scendiamo in basso con questa notizia. Nonna Elena è il segreto dei suoi 109 anni, signora a cui facciamo i complimenti davvero, che vive nel Trivento. Sotto la fotonotizia, Rigopiano, Di Marco rompe il silenzio. In chiesta sui 29 morti, l'ex presidente della provincia e altri sette chiedono l'interrogatorio. In basso, rifiuti, Roma, l'Abruzzo frena. Lolli, diciamo sì, solo al trattamento, la Raggi, sindaco di Roma, si faccia viva. Dunque la regione dice al momento no alla richiesta del Comune di Roma di accogliere nelle proprie discariche 70 mila tonnellate di rifiuti provenienti dalla capitale, ma resta la disponibilità a trattarli, cioè a lavorare l'indifferenziato, a separarne i componenti, a riciclare, da riciclare e rimandarla tutta indietro, l'ha chiarito proprio Giovanni Lolli. Altri box, l'Aquila, la scuola del cinema rischia la chiusura e poi per i redditi tredicesime tasse per i 719 mila abruzzesi, un po' i conti. Questa è la prima pagina del centro edizione di Pescara, andiamo sull'edizione di Chieti e Lanciano Vasto, ovviamente cambia l'apertura, ma è ancora come dette cronaca, sequestrata e picchiata per gelosia, Chieti universitaria minacciata dal fidanzato, metto online le tue foto porno, questo è il ricatto di questo fidanzato. La fotonotizia, qualità e sicurezza delle cure, premia i migliori reparti, Chieti riconoscimenti della ASL, nelle cronache Chieti nuovo prefetto, starò vicino a tutti i sindaci, il nuovo prefetto di Chieti, Giacomo Barbato che si è insediato e ha reso omaggio ai caduti e incontrato gli arcivescovi Forte e Cipollone. A Francavilla al mare, come vedete nonna Elena compie 109 anni, oggi la festa. E poi per lo sport vollei a due, nozze d'argento Lanci Impavida, 25 anni in campo, sotto la fotonotizia, prende a calci un vigile urbano ricercato, lancia un'automobilista in fuga dopo la contestazione di una manovra irregolare. Cambiamo, andiamo sull'edizione terramana del centro, questa è l'apertura ex Villeroi, serve una nuova strada, riqualificazione dell'area, si pensa ad una bretella per il lotto zero. La fotonotizia è dedicata, siamo a Teramo, la festa del patrono di Teramo, San Berardo, tanta gente per i mercatini e le processioni. Nelle cronache siamo in Vibrata, lotterie abusive per Natale, multe a due bar proprio della Val Vibrata, multati di 2.000 euro per aver organizzato delle lotterie natalizie, le cosiddette riffe non autorizzate. A Tortoreto, sotto inchiesta, le abitazioni appena costruite. E poi a Silvi, due colpi, spaccata col SUV in profumeria e anche un furto in chiesa. Sotto la fotonotizia, ladro ucciso sia al nuovo processo, siamo a Castelnuovo, ancora in aula il poliziotto dopo un primo dibattimento chiuso senza sentenza. Chiudiamo le quattro edizioni con quella aquilana del centro, case abusive vicino al cimitero, l'Aquila, il Tarboccia, le costruzioni entro 200 metri che dunque saranno abbattute. La fotonotizia è dedicata al presidente Petrucci che premia il nuovo basket aquilano per i risultati nel settore giovanile. E' proprio il presidente nazionale della federazione pallacanestro a premiare questi ragazzi che vediamo in foto. Altre notizie, l'Aquila, le imprese, tasse sospese, vogliamo la proroga, le associazioni imprenditoriali dopo il mancato incontro con Crimi e Vacca chiedono che il governo conceda prima possibile almeno una proroga in relazione alle tasse da restituire. All'Aquila sempre il monastero delle Clarisse riapre a marzo. A Roccaraso, piste in funzione anche a Pizzalto e a Monte Pratello e per la cronaca siamo ad Avezzano arrestati con 99 dosi di cocaina in cella a due magrebini che hanno tentato di gettare la droga nella fogna. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del messaggero, ovviamente edizione abruzzese, Rigopiano, c'è un'inchiesta bis, allarmi lanciati dal dipendente dell'hotel Gabriele D'Angelo, esami sullo smartphone, indagini per capire come mai le richieste di aiuto non siano state prese in considerazione. All'Aquila appello per salvare la scuola di cinema, poi di spalla Confindustria lancia Match 4 per l'innovazione delle imprese. In alto sotto la testata vediamo altre notizie, vigile urbano, siamo a Lanciano preso a calci mentre fa entrare i bimbi a scuola. A San Salvo, elettrauto colpito con un bastone, altra cronaca, dopo un diverbio ora è in coma. Per lo sport, Pescara stanco e senza difesa, bisogna ritrovare solidità. La condizione del Delfino è in progressivo calo, in mediana non c'è filtro, Memuscia e Brugman senza cambi, eppure, leggiamo, avrebbero bisogno di riposare. Scendiamo a centro pagina, la questione rifiuti di Roma, siamo disposti solo a trattarli? Lolli scrive alla Raggi, sindaci e gestori degli impianti non li vogliono smaltire. E per la cronaca, malavita di Natale, spari e auto a riete Far West nel Teramano, rapina con l'auto a riete al centro commerciale dell'Universo di Silvi, dove una punto è stata lanciata contro una vetrina, a Roseto i ladri sparano per fuggire. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, chiudiamo le prime pagine di casa nostra andando in provincia di Teramo, tornando in provincia di Teramo con la prima pagina del quotidiano La città, possibile frode interna alla ASL, ovviamente di Teramo, allarmi per consumi anomali di presidi medico-chirurgici. Il direttore generale attiva l'anticorruzione in alto, San Berardo festivo a metà per il comune. A Roseto degli Abruzzi la Movida diventa ZTL permanente, siamo a Mociano il comune contro replica al costruttore. A centro pagina la foto che ovviamente si riferisce ai conti della ASL, ovviamente al titolo principale che abbiamo letto, sotto invece c'è disaccordo sul polo scolastico, o i genitori chiedono di bloccare l'iter all'ex tribunale. Altre notizie a Silvi rubati i gioielli della Madonna nella chiesa di San Salvatore e la spaccata per i profumi al centro-universo. A San Nicolò dall'altra parte vediamo Rapina all'Enoteca San Lorenzo travolgendo la commessa. Siamo a San Nicolò come detto e poi a Teramo si apre un'altra voragine in centro storico, a Civitella del Tronto, violenza su un minore disabile a processo. E poi per la televisione le immagini di Prodeo nel Freedom di Roberto Giacobbo all'Aquila. Questa è la prima pagina anche del quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo sul Corriere della Sera, adesso iniziamo le prime pagine nazionali. Ovviamente in apertura c'è la manovra, anzi sul Corriere della Sera c'è l'intervista al Premier Conte. Così ho convinto i vice, non potevamo permetterci sanzioni dall'Unione Europea. Ringrazio Mattarella, intervista con il Premier, rivolta dei taxi, spunta l'ipotesi di inserire l'Atari nella bolletta. Invece a centro pagina l'altra grande notizia di ieri, Trump si ritira dalla Siria e scontenta il Pentagono. La decisione del Presidente, l'Isis è sconfitta. Si parla anche di Brexit, visti di un anno per lavorare nel Regno Unito, stretta sugli europei, non rinnovabili, regolamenti che entreranno in vigore dal 2021, quindi tra un paio di anni. Vediamo Repubblica, anche qui l'apertura è ovviamente dedicata alla manovra, le condizioni dell'Unione Europea. L'Italia paga il sì, a caro prezzo, rischio di una super stangata sull'IVA, meno risorse per reddito di cittadinanza e pensioni. Poi il sondaggio di Ilvo Diamanti, i verdi e i gialli fanno il vuoto, sono passati oltre nove mesi dalle elezioni politiche e la maggioranza continua ad avere un grande consenso. La notizia, siamo negli Stati Uniti, in Siria, l'Isis è stato sconfitto, Trump abbandona gli alleati. Vedete un blindato americano nel nord della Siria, via gli ultimi 2000 soldati statunitensi. Il fatto quotidiano, Europa a governo, chi ha vinto e chi ha perso, tagliati 10 miliardi, ma l'1,6 era peggio, partono dimagriti, reddito e quota 100, i pro e i contro il compromesso tra Conte e Commissione UE. In alto, l'uomo di Napolitano si attivò per contrada, la scoperta della Commissione presieduta da Claudio Fava. Altra notizia che trovate sul Fatto Quotidiano. Il messaggero, l'Unione Europea, dall'ok, ma vigileremo, maxi tagli agli investimenti, manovra dalla Commissione si condizionato, Conte, non abbiamo arretrato, spunta una tagliola da 2 miliardi a garanzia, 3 miliardi in meno alla crescita. Tutte le norme, dall'Atari ai giochi, per gli statali quota 100 da ottobre, aumento IVA, super clausola dal 2020. Scendiamo, siamo a centropagina, Trump, il via dalla Siria spiazza i militari, il Presidente degli Stati Uniti dice ormai l'Isis è sconfitta, il Pentagono invece dice non è vero. E poi per le buche, la spunta Roma, emergenza buche, l'esercito in campo cambia l'emendamento, ma il Campidoglio adesso dovrà dichiarare lo stato di necessità. Il giornale, via libera la finanziaria, ci spennano, tagliate le pensioni, meno sgravi, tassato lo shopping online, anacquati il reddito e quota 100. È una stangata e la Lega vuol mettere l'Atari in bolletta. la manovra sovranista scritta da Bruxelles con cauzione e il fondo di Alessandro Sallusti è abbastanza emblematico già dal titolo, traditi e gabbati. Brexit, nuovi limiti all'immigrazione italiani a Londra, tutto sarà più difficile ovviamente con Brexit, che dovrebbe entrare a fine marzo 2019. Il manifesto compromessi, l'Italia evita per ora la procedura di infrazione con un accordo pieno di rinunce, 38 miliardi in tre anni e insidie. Ottenuta la resa, la UE rimanda a una verifica sui conti, Di Maio e Salvini lasciano Conte da solo in Senato. Il governo pentaleghista esce ammaccato dal lungo braccio di ferro. Altre notizie, Global Compact all'ONU si vota, mentre in Italia neanche se ne parla. E per il pluralismo, fico, editoria, tiriamo una riga, poi un tavolo per le cooperative. Il mattino, deficit tagliati gli investimenti, la UE sospende la procedura di infrazione, ma vigileremo, dicono Conte, non abbiamo arretrato. Per ottenere l'ok, il governo concede un'altra garanzia da 2 miliardi e ne toglie 3 dalla crescita. Il sole 24 ore, manovra sì, condizionato all'Italia. L'accordo con la UE, manovra bis da 31 miliardi, minori spese per 9 e maggiori entrate per 1 e 2. Clausole IVA, leggiamo, rafforzate, per il 2020 e il 2021 per un totale di 52 miliardi. Mercati festeggiano, piazza affari chiude a 1,6, spread in calo a 254 punti. Vediamoli allora i numeri chiave, come li definisce il sole 24 ore, 31 miliardi, la manovra bis, il nuovo valore della manovra, dopo l'intesa raggiunta tra il governo italiano e la Commissione europea, il valore precedente era di 38 miliardi. 9 sono quelli di minori spese rispetto alla prima scrittura. La versione bis prevede circa 9 miliardi di minori spese. Il taglio maggiore per il reddito di cittadinanza è quota 100, meno 4,6 miliardi, più 1% il PIL 2019. Il governo italiano ha rivisto la crescita del PIL la prima stima era dell'1,5 nella prima versione, adesso ad un più modesto 1%. Le novità le trovate tutte riassunte in questo specchietto e poi all'interno del quotidiano. Quota 100 la spesa scende a 4 miliardi dalla web tax 600 milioni a regime, e poi tutte le altre cose che ci sono da sapere per questa manovra finanziaria. La verità, apertura, non esattamente sulla manovra, su alcune cose che sono all'interno della manovra. Danno un premio da 21 milioni a chi l'ha scritta, evitata la procedura di infrazione, non si sa ancora quanto ci costerà l'accordo con Bruxelles, però si scopre che i tecnici e il ministero prendono una ricche nennità aggiuntiva per il lavoro per cui sono già pagati. La fotonotizia, dopo la denuncia della verità, chiudono i negozi della marijuana. scendiamo in Italia, la sporca dozzina di foreign fighters, rientrato un decimo dei 129 fanatici partiti per unirsi all'Isis. Uno di loro voleva far saltare San Pietro. In basso, fanno parlare i terroristi, ammettappano la bocca, negata una sala a Torino, hanno paura della verità sui gay. E poi, altra notizia, la donna può usare il corpo per la carriera, ma poi non faccia l'ultra del Me Too, dice Claudia Gerini, che vedete in foto. Libero, maggioranza, che definisce la maggioranza, oramai, ha forte trazione grillina. Uccisa la flat tax, Salvini barcolla. La UE approva la manovra, c'è il reddito di cittadinanza caro al Movimento 5 Stelle, è sparito il taglio delle tasse promesso dal carroccio. Va toste a imprese e anziani. Aria di stangata, l'IVA salirà di oltre 80 miliardi nel 2020. E poi questa notizia che riguarda la televisione, ma in maniera relativa, l'ITZ anche da Fazio si separa dal marito, errore, coppie consolidate e coppie che scoppiano. la stampa, il costo della manovra, tagli e tasse, l'accordo UE-Italia, ferma lo spread, ma riduce gli investimenti di 4 miliardi, il premio ai rimpegni mantenuti, TRIA, reddito di cittadinanza e quota 100 da aprile. Dombrovskis, sotto osservazione, saremo fino a gennaio, la Commissione non fa scattare la procedura, Mattarella benedice la tregua, la Fed alza i tassi e inquieta i mercati. E poi la scelta, questa notizia che non troviamo sugli altri quotidiani, la scelta dell'Europa sulla plastica, dal 2021 addio ai prodotti USA e Getta per evitare il sovraccarico di plastica. Il tempo Conte paga 38 miliardi l'ok di Juncker, il governo cede su tutta la linea, più tasse e meno spese per tre anni consecutivi di bilancio, tagliati 10,2 miliardi dalla manovra del 2019, poi 12,2 nel 2020 e 16 nel 2021. In alto, la capitale, siamo a Roma, va in tilt per la rivolta dei taxi, auto bianche contro il dietro front del governo sugli NCC, città bloccata, traffico impazzito, aeroporti e stazioni nel caos. Il secolo d'Italia, nessuna resa, sono le parole del Presidente del Consiglio Conte che dice abbiamo salvato l'impostazione della manovra, sia quota 100 che reddito di cittadinanza partiranno nei tempi previsti, ha detto il Premier Conte al Senato. in basso, Global Compact e rinvio, Fratelli d'Italia, cui fa riferimento, il quotidiano che stiamo leggendo, dice bisogna decidere ora. Salvini vuole la Toscana, si può vincere anche qui, e poi l'amica geniale è trionfo, ma senza femminismo. L'avvenire, il non profit paga l'accordo con la UE, bloccata la procedura di infrazione, grazie al taglio della manovra di 10 miliardi, ma raddoppiano le imposte per scuole, ospedali e fondazioni. Niente più Ires agevolata. Per l'inquinamento, città con polveri sottili, crescono cemento e voragini. E poi, il presidente dell'ISS, Ricciardi, lascia, l'Italia non è sana. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport, che ha una doppia apertura con due personaggi. partiamo dall'alto. Niki Lauda, la mia terza vita, leggiamo, è stata peggio del Nürburgring, la lettera di Vettel mi ha commosso, prima intervista, dopo il trapianto, operato al polmone ad agosto, il leggendario pilota austriaco, ci parla da sopravvissuto, non ho perso un gran premio, tra un mese sarò in forma. Intervista esclusiva a Niki Lauda. e poi l'altra apertura è dedicata a Gonzalo Higuain, che vedete con questo titolo, chi l'ha visto? Higuain pipita in crisi di gol e nervi, il Milan sbuffa, eppure Cutrone. Il commento di Alessandro De Calò non sia un altro sciagurato. Altre notizie, il mercato, Marotta al mercato, Modric nel Milino, con Barella e Tonali, obiettivo su campioni e promesse, seguiti anche Mancini dell'Atalanta, Trincao del Braga, e Lincoln del Flamengo. dall'altra parte con la Ridoro, Molinari, Fontana e la Gazzetta. Andiamo sul Corriere dello Sport, l'ultimo Ronaldo, sabato con la Roma, si potrebbe chiudere il 2018, del fenomeno bianconero. Juve Cristiano è il giocatore più presente in campionato, ha saltato solo 10 minuti a Firenze, dopo il Natale, il turnover riguarderà anche lui. In alto, invece, Icardi si complica. Gennaio, nuovo incontro per il rinnovo, la società alzerà l'offerta, il nodo è la clausola, il club vuole eliminarla, ma come leggiamo, il rinnovo del contratto non esclude l'addio all'Inter. In basso, per la Roma ci vuole, per la Roma ci vuole Murigno e sono le parole di Roberto Pruzzo, bomber Pruzzo, di Francesco il responsabile, non più di altri, qui servono i campioni, dovesse saltare un solo nome, ovviamente quello di Murigno, ma so che è un sogno, dice il bomber di Croce Fieschi, tutto sport, Juve, occhio ai saldi, dai contratti in scadenza, Rabiot e Ramsey, rapporti deteriorati con i club, Pogba e Isco, alle quotazioni clamorosamente in discesa, come Milinkovic Savic. Il mercato di gennaio propone una serie di situazioni allettanti, che il club bianco-nero sta valutando, in alto non si spegne l'eco sul derby di Torino, Cairo insiste, 8 degli ultimi 12 derby, sono stati decisi dagli arbitri, il presidente del Toro, Repple-Garnicchi, se non è sul ditanza, allora vuol dire che sarà sfortuna. Questa è la prima pagina, scendiamo in basso, NBA la nuova frontiera, è il tiro addirittura da 4 punti, allo studio questa novità, che sarebbe clamorosa per il gioco del basket, e poi Bale invece in casa Real Madrid, si traveste da Ronaldo, tripletta e Real in finale al Mondiale per club. Ci fermiamo per la pubblicità adesso, previsioni del tempo, consigli per gli acquisti, poi torniamo ed entriamo all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6, riprendiamo con la lettura dei quotidiani di casa nostra, entrando all'interno, per vedere che cosa troverete, ad esempio sul centro, con cui apriamo, apriamo con la pagina di Pescara, e con l'insegnante muore, che muore dopo il malore a scuola, tragedia alla Di Marzio Michetti, Rita Battisone era appena rientrata in laboratorio, per la lezione trasportata a urgenza in ospedale, purtroppo non ce l'ha fatta, la sera prima era alla cena con la scuola, il ricordo addolorato della preside a Scani, ci siamo scambiati gli auguri di Natale, ed era tranquilla. Purtroppo una vera e propria tragedia, i funerali, come leggiamo, si svolgeranno domani a Montesilvano, dove la professoressa abitava con la famiglia. Dall'altra pagina 16, ancora cronaca, anziano investito sulle strisce grave, il 75enne stava attraversando la Nazionale Adriatica Nord, ricoverato in neurochirurgia, donna travolta in via del circuito. Rimaniamo a Pescara, oggi la giunta, Caritas si decide. Per il dormitorio, poi quest'altra notizia, via Tavo, al ferro di cavallo, buca per errore il tubo del gas, evacuato l'intero palazzo, onde evitare problemi maggiori. Cambiamo pagina, l'inchiesta sui 29 morti di Rigopiano. Di Marco vuole parlare, anche l'ex prefetto e altri sei, dal PM dei 24 indagati che figurano nell'avviso di conclusione delle indagini sulla tragetta del resort, solo in otto, tra cui l'ex presidente della provincia, hanno chiesto alla procura di essere interrogati. E dalle famiglie delle vittime, primi no alle archiviazioni. In basso, sempre rimaniamo a Pescara, pentola a fuoco, paura per un'anziana, Viale Regina Elea, una donna 86 anni, soccorsa e salvata, nell'appartamento, invaso dal fumo. Riviera Nord, Palazzo Michelangelo, sarà abbattuto, annuncio del comune, dopo anni di battaglie legali, al suo posto, l'impresa potrà costruire un manufatto di sei piani con garage, l'edificio, questa è la fine di un edificio mai completato. Porto, il progetto, finisce su striscia la notizia, non si è tenuto conto del ponte del mare, del vecchio, questione superata, Melizi, tutto da rifare. Da casa all'ospedale, per i bambini, ora c'è il Taxi Clown, il servizio partirà a gennaio con l'associazione Will Clown, per il progetto Un ospedale a colori, è avviato con il comune, peraltro notizia, che abbiamo raccontato ieri, nel corso delle nostre edizioni, del telegiornale. Cambiamo pagina, intervento innovativo alla colonna vertebrale a Pescara, l'equip del dottor Musso ha utilizzato per la prima volta in Italia la tecnica che consente di abbattere i rischi vascolari e limitare il dolore. Di spalla, l'orchestra giovanile si esibisce a Salisburgo, parliamo dei piccoli cantori pescaresi A centro pagina, eccola qua, l'abbiamo letta anche in apertura, nonna Enea compie 109 anni, 5 figlie, 12 nipoti e 16 bisnipoti ha vissuto tra Pescara e Francavilla. In basso invece la lezione anti-bullismo alla Mazzini, progetto del Corecom e del centro, il professor Di Giannantonio chi assiste e non fa nulla è un complice a Montesilvano verso le elezioni gallerati in regione via libera a Fusilli l'ex sindaco presto scioglierà la riserva che aprirà la strada in comune all'ex deputato nel centro-destra si muove Aliano ovviamente ci sono si va verso le elezioni anche se potrebbero essere ritardate però i primi equilibri cominciano a muoversi troppo presto per le regionali l'assessore Deborah Comardi di Forza Italia prima il risadamento del bilancio andiamo alla pagina di Città Sant'Angelo dove Italia Nostra riapre la biblioteca ragazzi convenzione tra la sezione angolana e il comune per i corsi e il dopo scuola dal mercoledì al venerdì due ore con i volontari a centro pagina spoltore gestione rifiuti respinto il ricorso di ecologica respinto dal Tar andiamo avanti siamo a Francavilla comune senza plastica oggi mozione in consiglio su proposta di Livio Sarchese si discute l'eliminazione di ogni tipo di articolo monouso fatto con la plastica dalle sedi comunali come uffici e scuole in realtà poi abbiamo visto che anche a livello mondiale è una cosa verso cui si va l'eliminazione dei prodotti monouso per ridurre l'impatto della plastica proprio nelle nostre vite e poi è difficilissimo se non impossibile da smaltire si trova a Bolognano invece la casa piena di regali di Babbo Natale grazie a un'associazione il 24 dicembre in Piazza Battisti gli Elfi riceveranno i bambini e prepareranno un rinfresco e invece a Penne serve un decreto come leggiamo per salvare l'ospedale campese alla ASL siamo privi di servizi essenziali l'inverno farà emergere i fattori critici a Chieti dramma della gelosia sequestra picchia e minaccia la fidanzata 27enne finisce a processo pubblico le tue foto porno così terrorizzava la ragazza studentessa universitaria l'imputato accusato anche di stalking lesioni personali e rapina si difende è tutto falso la parte civile ci sono testimoni che hanno assistito proprio all'aggressione a centro pagina botte ai genitori per la droga condannato pena di 4 mesi di 3 anni e 4 mesi per un giovane accusato di estorsione pugni calci e minacce di morte in basso il nuovo prefetto Barbato sarà vicino a tutti i sindaci il nuovo prefetto si è insediato subito omaggio ai caduti e visita gli arcivescovi allora andiamo a vedere il primo giorno il nuovo prefetto di Chieti Giacomo Barbato e Giacomo Barbato il nuovo prefetto di Chieti prende il posto di Antonio Corona destinato alla prefettura di Forlice Sena il cambio di incarico è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini Barbato nato ad Aversa nel Casertano 62 anni fa ha maturato una significativa esperienza all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con sede principale a Reggio Calabria dove ha diretto le attività operative ed è stato componente di commissione straordinaria di diversi comuni sciolti per mafia è stato prefetto di Belluno e commissario straordinario dei comuni di Molfetta San Giorgio a Cremano Latina Grotta Ferrata e Torre del Greco mi hanno già sicuramente fatto un panorama e loro le forze dell'ordine sono come si dice sinteticamente sul pezzo quindi voglio dire non aspettano certamente il nuovo prefetto per lavorare e in questi anni hanno lavorato bene l'impegno è assolutamente importante e quello che ho trovato immediatamente questo rapporto personale è raro e difficile ma piacevole riuscire a estaurare immediatamente con una persona che non conosce anche se apparteniamo poi tutti alla grande famiglia dello Stato quindi siamo abbiamo una formazione professionale cioè riuscire immediatamente ad entrare in sintonia io per quello che posso fare darò assolutamente tutto la mia disponibilità personale perché tanto quelle dell'ufficio la prefettura è un'istituzione che ha più di 200 anni certo non aspettavano il prefetto Barbato avete 104 comuni passate dalla montagna alla collina e il mare praticamente c'è di tutto allora io mi chiedo io che sono campano di origine però scoperto che abbiamo in comune il regno delle due Sicilia sono romano di adozione perché vivo da più di 30 anni ai castelli ma come ho fatto a non venire mai in Abruzzo fortunatamente ci ha pensato il ministero ecco e allora buon lavoro dunque al nuovo prefetto di Chiedi Giacomo Barbato continuiamo la lettura dei quotidiani siamo a Lanciano prende a calci il vicino urbano ricercato l'automobilista spintone picchia la gente dopo la contestazione di una manovra irregolare aggressione vicino ad una scuola pupillo dice episodio ovviamente increscioso la gente racconta mantenuto la calma per non passare ovviamente dalla parte del torto sempre a Lanciano rapine in villa trasferito il bandito pestaggio dei coniugi martelli lo ricorderete Martin portato nel carcere di Cassino in basso scontro con un cinghiale madre e figlia illese per fortuna ennesimo incidente a testa lungo la provinciale 119 sangritana solo danni alla macchina a San Salvo resta grave l'elettrauto bastonato in strada l'aggressore forse già individuato con le telecamere della videosorveglianza solidarietà alla famiglia e condanna a vasto assolto dall'accusa di violenza sulla moglie perizia del tribunale affossa la denuncia presentata dalla donna il difensore un padre restituito ai figli e in basso drugstore vanno ai domiciliari i 14 arrestati vasto blizzi ferragosto accolte le richieste dei difensori e gli indagati sui quali c'è la richiesta di giudizio siamo a Teramo a Castelnuovo in realtà la sparatoria del 2012 quindi un salto un po' indietro ladro ucciso sia il processo bis ma tra due anni il reato si prescrive Nuori invia a giudizio del poliziotto dopo un primo dibattimento chiuso senza una sentenza il PM sparò ma non voleva uccidere l'accusa di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa questa è l'apertura e per le lotterie di Natale abusive sono arrivate delle multe ai bar operazioni della Guardia di Finanza in alcuni centri dell'entroterra della Val Vibrata a San Nicolò rapina in negozio commessa spintonata disarmato e avvolto coperto assalta San Lorenzo Vini e fugge con il registratore di cassa bottino 1800 euro furto di oggetti sacri a Silvi San Salvatore ignoti rubano corona e rosario della Madonna in basso invece la festa del patrono a Teramo San Berardo tanta gente a fiera e processione polemica tra lista oltre e sindaco sulla sosta a pagamento rimasta in funzione in centro cambiamo pagina siamo ancora a Silvi sfondano con l'auto la vetrina del negozio ladri con il volto coperto in azione in una profumeria del centro commerciale universo il colpo ripreso dalle telecamere e sempre a Silvi domani il comune istituisce la consulta dedicata ai giovani domani la presentazione in sala consigliare all'Aquila area acqua santa collemaggio la sentenza vanno demolite le case vicino al cimitero il tar boccia la delega del comune edificare a meno di 200 metri sono decine gli immobili ora divenuti abusivi per la politica Martino Liris non mi risponde più al telefono continua la guerra all'interno di Forza Italia il deputato al vice sindaco lancio un appello a farsi vivo in basso tasse il governo mantenga le promesse gli imprenditori delusi dal mancato incontro con i sottosegretari Crimi e Vacca la ricostruzione il monastero delle Clarisse sarà pronto a primavera i gioielli tornano alla luce era stato devastato dal sisma 2009 dopo dieci anni riapre alla città paganica la cerimonia prevista il 9 marzo la lettera di Natale delle religiose altre notizie il Munda festeggia i primi tre anni di vita oltre 84.000 visitatori al museo e poi si scia anche a Pizzalto e a Montepratello pronte le piste siamo a Roccaraso qui siamo già come vedete allo sport prima di arrivarci ci arriveremo insieme con tutti i quotidiani quindi lo faremo poi nella parte finale andiamo sul quotidiano il messaggero che apre con l'Abruzzo che va verso le urne Marsilio dice sì ma Salvini rinvia ancora l'incontro con Berlusconi e Meloni solo dopo l'approvazione del bilancio Legnini oggi a Lancia con Bersani sabato il rendezvous con i sindaci sul centrodestra come leggiamo nel box continua a pesare la spaccatura di Forza Italia all'Aquila che abbiamo letto poco fa ricominciamo da Peschiara dieci giorni per salvare il porto la vasca di colmata va svuotata entro la fine dell'anno da gennaio i fanghi diventano rifiuti e i costi li evitano vanno rimosse almeno 80.000 metri cubi domani tavola di regione con il dirigente Gerardini e il provveditorato regolamento dei vigili salta il consiglio Teodoro Furioso il PD dice è un incidente niente numero legale Longhi difende i suoi recupereremo testa un segnale chiaro l'assessore dovrebbe dimettersi in basso se Babbo Natale è un truffatore allora ci sono i consigli per gli acquisti fatti online soprattutto in tempo di regali di nuova Pescara asfalto drenante cortoli ruspe sulle piste ciclabili al via i lavori nei tratti di via Sabucchi strada parco e argine da gennaio gli interventi su via Regina Margherita e lungomare altre notizie che leggiamo casa a fuoco in via Regina Aerea 86enne intossicata salvata dai vigili e poi due investiti sulle strisce grave un anziano gli incidenti a distanza di poche ore sulla nazionale e in via del circuito in ospedale anche una donna romena Rigopiano inchiesta bis sulle telefonate dimenticate acquisito dai carabinieri forestali lo smartphone del dipendente dell'hotel che chiamò la prefettura il coc di penne sotto la lente dopo l'opposizione alle archiviazioni anche la conversazione del 18 annotata con la parola evacuazione altre notizie verme nella cotoletta malori a scuola i genitori in allarme a Montesilvano sappiamo come da noi insomma sia argomento caldo soprattutto i fatti di Pescara di qualche mese fa le menze scolastiche siano tema sempre di discussione di particolare giustamente attenzione via Tavo allarme per una fuga di gas un intero palazzo sgomberato dai vigili il rischio era quello di un'esplosione in basso strade da incubo tre incidenti con feriti lievi e lunghe code una giornata di passione sull'asse attrezzato e in mattinata soccorsi ostacolati dalla fuga di uno degli automobilisti coinvolti altre emergenze poi si sono verificate in serata all'Aquila cinema appello alla regione per salvare la prestigiosa scuola Pietrucci si impegna per inserire 250 mila euro nel bilancio che il consiglio regionale deve varare Foti finora siamo andati avanti solo grazie all'intesa con l'ex giunta a Chiodi e a Franceschini Munda come vediamo 35 mila visite in tre anni e ora ci saranno nuovi lavori cambiamo pagina siamo ad Avezzano illuminazione scontro sugli appalti avvocati scatenati contro il grande accusatore Capogna in 25 del mirino del maxi procedimento ormai ad una svolta i legali del sindaco Gianfranco Tedeschi hanno ribattuto all'ipotesi di associazione a delinquere turbativa d'asta e poi contrasto allo spaccio siamo a Sulmona arriva il daspo urbano e sempre a Sulmona dal primo gennaio caos pediatri due andranno in pensione ad Avezzano gettano 96 dosi di coca nel water ma vengono arrestati e poi il caso Santa Croce lo sfogo su Facebook costa caro all'assessore a Chieti botte per la droga e maxi condanna a tre anni e quattro mesi è scattata anche l'accusa di estorsione per Gennaro Pizzo denunciato dai genitori sottoposti a continue minacce vediamo anche qui i primi impegni del prefetto Barbato dall'altra parte noi Aristofale che lezione con Ficarra e Picone in cattedra i due comici in tour con le rane proprio di Aristofale ospiti della facoltà di lettere accoglienza da star tra battute e abbracci e queste sono le foto degli studenti che ascoltavano ovviamente con particolare attenzione siamo a Lanciano vigile aggredito fuori dalla scuola donato d'avanzo preso a calci da un automobilista autore di una manovra folle a un incrocio la proniosi di 15 giorni l'uomo si è allontanato alla guida di una vecchia 500 ma sarà presto identificato pupillo comune e si costituirà parte civile l'inchiesta cure senza ticket rinvio a giudizio per Antonio consorte e poi a San Salvo una lite per futili motivi dietro il grave pestaggio siamo a San Salvo a Teramo sparò al rapinatore in fuga processo bis per il poliziotto albanese ucciso da una pallottola nel sedile posteriore della Mercedes contestato da Alfredo De Concilio il reato di eccesso di legittima difesa e per la sanità la ASL vende immobili per far tornare i conti in basso violenza sulla ragazzina disabile 53enne a giudizio ancora cronaca colpo nel negozio di San Nicolò poi il ladro scappa con la cassa siamo a Silvia anche qui ritroviamo la spaccata all'universo rubati i profumi un appunto lanciata contro la vetrina del negozio estasi poi il blitz con la razzia di prodotti in pochi minuti la dinamica utilizzata 5 giorni fa a Lanciano per il colpo alla profumeria del centro commerciale Pianeta a Roseto le urla mettono in fuga i ladri poi gli spari in basso 6 il massone il Movimento 5 Stelle lo esclude dalla lista disavventura di Antiglio Falchi docente dell'ITI di Giulianova che fino a ieri era ancora candidato e adesso evidentemente non più altre notizie che arrivano dalla parte nord della nostra regione a Giulianova scuole bandi da bloccare l'appello dei genitori poi Alba e Tortoreto ora unite più vigili contro gli abusivi operaio a Pineto travolto da un tir sulla statale adriatica è grave qui siamo allo sport però prima andiamo a Teramo con il quotidiano la città allarme per una possibile frode interna alla ASL non tornano i conti tra operazioni chirurgiche e materiale utilizzato e il direttore generale attiva l'anticorruzione questione di carte secondo i documenti la ASL ad ogni singolo paziente sarebbero stati impiantati molteplici dispositivi se così fosse dall'altra parte rapina all'enoteca San Lorenzo a San Nicolò giovane solitare senza armi porta via 1300 euro dal registratore di cassa travolgendo una commessa a pagina 8 la bonifica della Villa Eroia approda in regione oggi la conferenza dei servizi sul progetto di recupero presentato dal gruppo Gabrielli e abitare Abruzzo e poi parcheggi a pagamento anche nel giorno festivo proteste per la Tercop che chiede il ticket nel giorno di San Berardo nonostante i cartelli non lo prevedevano il motivo per la vocatura del comune in base alla convenzione la festa del Protono non è un giorno festivo nazionale ed ecco perché i parcheggi sono rimasti a pagamento cittadinanza a baby migranti arriva in consiglio il provvedimento anti Salvini della De Sanctis per i figli di immigrati è destinato a far discutere ancora è sull'altra pagina Legnini spunta a sorpresa per ricordare D'Agostino il candidato governatore lancia il suo progetto oltre il PD per mettere insieme i sindaci del centro sinistra andiamo allo sport adesso ripartiamo dal centro il Pescara il centrocampo è la croce e la delizia di Piloni il trio Memushai-Bruckman-Maccin è considerato il migliore della B mostra problemi nella fase difensiva e il tecnico studia nuove soluzioni per risolverli e poi a proposito della partita di lunedì sera ricorderete che Ragusa l'ex della gara è uscito per infortunio Ragusa shock si è rotto il legamento crociato e allora in bocca al lupo all'ex giocatore del Pescara Antonino Ragusa in basso questioni federali Balata-Gravina prosegue lo scontro sul format il presidente della Lega B Balata rispetti le promesse la replica del capo della FGC le riforme si fanno in consiglio in serie C le parole del presidente del Teramo Campitelli prende un bomber arriverà un finalizzatore perché in attacco bisogna andare sul sicuro Speranza è out per sabato a pagina 51 invece il Giuliano attende il sì di Giordano Napolano che dovrebbe essere l'arma in più già per la trasferta di Cesena di sabato sera il Digitti Odoro è fiducioso troveremo un'intesa l'ex Vastese potrebbe essersi già nell'anticipo del Manuzio ricordiamo che Giuliano gioca sabato sera 20 e 30 proprio al Manuzio contro la prima della classe altre notizie di Serie D che leggiamo Francavilla in Romagna per il primo colpo esterno sabato tornerà dal primo minuto anche Banegas a Pineto Tomassini il Pineto sa vincere con il gruppo in casa San Nicolò Dalmazzi e Mozzoni i dubbi del notaresco e Blando invece in Canta ad Avezzano oggi le prove a Capistrello e Conti Alessandro Conti va verso il Forfè in basso Bolami rinvia i sogni di gloria della Vastese il Presidente per questa stagione puntiamo alla salvezza nella prossima tenteremo il grande salto ancora sport sul messaggero ripartiamo dal Pescara Delfino stanco e senza difesa anche qui vengono sottolineate un po' di fatica che sta mostrando un po' di stacchezza che sta mostrando questa squadra la condizione del Pescara in calo la linea mediana non fa più filtro le Musciae e Brugman senza cambi e avrebbero necessità di rifiatare a proposito di centrocampo vediamo che Canutè peraltro troppe volte indisponibile Palazza rientro degli infortuni e poi gli alti e bassi di Maccina e Melegoni ecco perché questi problemi di centrocampo in questo momento tra poco peraltro il mercato vedremo se il Pescara tornerà o farà qualcosa proprio nella zona nevralgica del campo Gravina la B non sia un'eccezione si torna a 22 dunque si torna a discutere del format che ovviamente investirà sia le retrocessioni dalla Serie A sia le promozioni dalla B e le retrocessioni verso la C insomma a cascata tutti gli altri campionati dipendono anche da un campionato intermedio come quello cadetto in basso per il volley si è convincente ma c'è la tegola infortuni Zanettin dovrà restare fermo almeno altre 4 settimane basket amatori super punta anche alla Coppa e poi il Teramo chiede la nuova C Campitelli chiama il presidente di Lega Pro Ghirelli formula rinnovata ora spendiamo troppo Speranza invece si allena a parte è chiaro che sabato Albonois contro la Triestina non ci sarà Lanciano invece ha tutto gas vince anche in Coppa bene questa era l'ultima notizia per questa mattina vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 mattino 6 invece torna puntuale domani mattina alle ore 8 è tutto buona giornata a